Yo, baby K Vestiti in fretta perché ho voglia di far festa Sai non importa il trucco e la bellezza in testa Abbiamo visto il cielo piangerci addosso Perciò vogliamo ora che il sole è nostro Voglio una musica che mi ricorda l'Africa All'improvviso tutto il mondo cambia pagina Innamorarsi con la luna nel mare, partire e tornare E senza sapere quando, andata senza ritorno Ti seguire fino in capo al mondo, all'ultimo secondo Volerei da te, da Milano fino a Hong Kong Passando per Londra, da Roma fino a Bangkok Cercando te Staccato il tuo lavoro almeno per un po' La vita costa meno, trasferiamoci a Bangkok Dove la metropoli incontra i tropici E tra le luci diventiamo quasi microscopici A posta fine Anche loro in N2, classe più agguerrita, non potevate scegliere? Sì, diciamo, siamo qui per fare la gara, per divertirci Senza pretese, insomma, senza ansia da prestazione in zero Rilassati Soprattutto poi però nel corso della gara si valuta un attimo l'andamento Delle tre prove, quale secondo te è un po' più difficile da prendere un po' più con le pinze? Guarda, se non fosse che sono di Anagni, direi quella di Anagni Però insomma gioco in casa, almeno la conosco bene Ok, comunque noi poi saremo lì lungo tutta la gara per vedere un attimo gli andamenti Le strategie che state elaborando e per seguirvi passo passo Numero 58, allora in bocca al lupo all'equipaggio Torroni Giuseppe e di Sarra Michla Sì, Gabriele, pronto per E gli ultimi equipaggi Sì, Gabriele, pronto per la gara